Il fascino e il mistero dei giochi di magia saranno oggetto di rispolvero l'11 settembre all'evento di Magica Pesaro, organizzato dal ristorante La Giara di Arzilla e il club magico marchigiano Ezzo Giulietti di Pesaro. Trucchi e giochi di prestigio che per una giornata intera incanteranno e stupiranno i tanti partecipanti previsti, come ci spiega lo stesso presidente del club organizzatore Claudio Gatti. L'evento è organizzato che la mattina dalle 11 avremo dei maghi che fanno la micromagia all'aperto della Giara, se il tempo permettendo, oppure anche all'interno, man mano che vengono gli ospiti. Poi dopo verso per pranzo anche quel close up che si fa tavolo per tavola, contatto ravvicinato con le persone, quindi è un modo molto bello di vedere quest'arte. Fino a finire, il pomeriggio, dopo il pranzo, con uno spettacolo che noi lo chiamiamo Magic Show, adesso vediamo se chiamarlo magari con il nome Magica Pesaro, proprio il nome dello spettacolo, e fare la magia da parte di 4-5 soci fondatori antichi del club, che per l'occasione rispolverano il loro numero, quindi è un'occasione molto bella e interessante di vedere anche questi vecchi personaggi. E vi aspettate tanta partecipazione? Sì, perché la magia poi ultimamente ha ripreso successo, c'era stato un momento di calo anche a livello televisivo, invece adesso si sta riprendendo grazie anche a quei programmi televisivi dove dei maghi proprio spopolano, e poi grazie anche al fatto che adesso vedi proprio con internet, YouTube, vedi proprio i maghi che fanno questi generi di magie tra il pubblico nelle piazze, i giovani sono coinvolti, molto coinvolti. Ecco, se ci può togliere una curiosità, magari quali giochi verranno fatti, se ce ne può raccontare solamente uno? Sì, dunque sicuramente c'è Andrea Truffa, infatti dicevi in arte Andrews, che ha un numero con le colombe, quindi la produzione di colombe, vedere le colombe che appaiono, poi spariscono magicamente, è sempre un effetto, poi per i bambini è fondamentale. Anche tante carte? Molte carte! Grazie a tutti!